Alessandro Bonfuglioli, european master turn down, prova snatch, abbiamo 55 kg, timer dai è baffone, è facile eh, questo è facile è baffo, facile, sielo lì eh 6A, 60 65 è la 60 adesso ho saluto si si con se si in in Guarda lo specchio, guarda lo specchio. Regione! Chi ha un 20 minuti? Dai, Lion, che c'è questo, facile! Vai, tira! Bravo! Guarda in alto, eh! Dai! Dai, dai, dai! Ok, ce l'hai, ce l'hai, tutt'anno! C'è, c'è, c'è! Anche io! Ognuno c'è solo! Ottimo, lo sto registrando, vecchio! Cosa ci diamo di tanker? Allora, un minuto per il volo. Facciamo un casino quello che... Te lo faccio di tirare? È giustorata, quindi è più facile. Va bene? Dai, cazzo! Dai, Lion! Oh, ce l'abbiamo, eh! Tira su! Muove la prima! Io ho fatto due trenta volte, qua! Ci ho messo di dieci minuti. Dai, spara in centro, spara in centro! Lì! Uguale! Adesso arrivi lì! Carichi i salti dritto e ci vai sotto! Tira in alto! Non pensare allo scuola! Tira alto! Su! Bravo! Chi si è concentrato? Ehi! Grande Leone! Non è un problema! Ti ha tirato lì! Leg! Leg! Snatch! Era bellissimo! Vedi che se si va giù? E lo ti diventa molto bello! Leg era bellissimo! Bravo! Ragazzi! Non guardarti mentre fai wall ball per favore! Non guardarti mentre fai wall ball, per favore! Non guardarti mentre fai wall ball, per favore! Non guardarti mentre fai wall ball per favore! Non stai scusso qua! Dai, cazzo! Allora! Non è veicino! Allora! 65 troppo! Allora fai... Un e mezzo, un e mezzo! 65 e mezzo! 65 e mezzo! E' un'altra parte. Il giugno è il giugno, il giugno è il giugno. Il giugno è il giugno, il giugno è il giugno. Il giugno è il giugno. Il giugno è il giugno. Non lo scherzo.